C'è alla faccia della definizione HD Poi pure la tastiera rotta, manco i soldi per una tastiera intatta Sì, lo so, è una pazzia amare te No ma che è una pazzia guardare sto video, c'è chi l'ha creato avrà avuto qualche che ne so disturbo mentale Tu non sei un uomo E c'hai ragione Tu non sei un animale Ma c'è qualcosa in te particolare Cavolo, ho qualcosa di particolare, riesco a guardare sto video, c'è sarò un super saiano per resistere a sto dolore E mi fa bruciare i microprocessori Eh? Microprocessori Non ha senso, perché i microprocessori? Altro che bruciare i microprocessori, qua mi si brucia il cervello Quando mi fai quell'interfaccia No, no, cioè basta, io ci rinuncio a capire sto video Quando mangi la focaccia Perché? Vorrei scansionarti tutto Secondo me a te devono farti la scansione della testa, così per capire se dentro c'è il cervello o c'è qualche entità tipo un buco nero Ammetto che ho voglia di toccare il tuo corpo Ma no, no, prendiamo le distanze, tre chilometri di distanza, guarda, non voglio neanche guardarti Anche se nelle tue vene non scorre sangue E scusa, cosa dovrebbe scorrere? Ma minestre Ma minestre Tu che canti, ma perché? Ma perché hai fatto sto video? Cioè quanto t'hanno pagato? 30 miliardi di euro Cioè i due ore, dov'è che vivi? In una casa tutta d'oro, con incenso d'oro E dimmi che mi ami, e dimmi che mi vuoi No, no, io non ti amo, non ti voglio, non so neanche perché ti guardo Dimmi che mi ami, e dimmi che mi vuoi No, 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 guarda, I don't speak Italian, zorri Ecco ho inventato un nuovo modo per torturare la gente Cioè tipo qualche tuo amico non ti vuole dire qualche segreto Tu mi fai vedere il video, non ce la fa più a guardarla, te lo dice piuttosto Hashtag minestre